URRA! 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 Sono velocissimi! Sono velocissimi! Sono velocissimi! 5 mila! Sono velocissimi! Sono velocissimi! Sì! È il seguito! È il seguito! Sì! È il seguito! È il seguito! È il seguito! È il seguito! guardalo, guardalo come è spinto vai Leone, vai! vai Leone, vai Leone! la faccio così, non lo devo pulizizzare, non lo pulizzi a casa mamma la faccio così, non lo devo pulizzi a casa mamma Ah, sì! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.